Salve a tutti, sono in compagnia di Federica Carta, che si è appena laureata campionessa italiana a Juniores. Da cadetta è un grande risultato. Sì, molto. Non lo aspettavo. Tra l'altro sei stata premiata come campionessa italiana più giovane oggi. Questa è una grande soddisfazione e uno stimolo per fare certamente. Sì. Prospettive per il futuro? Spero di classificarmi a Tagame la prossima settimana, perché è una campionessa di Caretti e poi l'anno prossimo. Oggi ti è capitato di discutere la finale con una propria compagnia di scuola? In una parte non sia il massimo per doversi contendere loro con una propria compagnia di scuola. No, perché comunque combattiamo molti giorni insieme, quindi ci conosciamo a vicenda. Tra di voi c'è un bel rapporto. Sì, sì. Però, d'altro canto, c'è la gioia di portare a casa. Sì, scusi. Nella stessa categoria che ho recuperato di scuola. Bene, allora ti facciamo un po' per i prossimi appuntamenti. Grazie. E come dico in sueto, facciamo le nostre interviste con il nostro motto che è... Italia Giù. Italia Giù. Vitale. Grazie a tutti